I want to be a radio star Beyond the covers of the metal Lasernet, nata nel 1999 come spin-off di un'altra società del settore, prima industria, è un'azienda metalmeccanica specializzata nel taglio laser e nelle lavorazioni di precisione. Dall'esperienza industriale di Lasernet, un paio di anni fa l'azienda ha deciso di creare un brand commerciale e di design votato in qualche modo alla realizzazione di progetti che richiedessero un apporto estetico e quindi un miglioramento nel settore industriale. Sicuramente un esempio fra tutti è l'incarico che Lasernet o Laser Carding hanno ricevuto da un importante cliente nazionale per quanto riguarda l'abbellimento di un macchinario dedicato al settore alimentare. L'operazione che a livello di design e quindi di successiva produzione è pienamente riuscito al punto che oggi Lasernet ha acquisito una commessa di rilevante importanza proprio basando la sua specificità sull'apporto di design fornito da Laser Carding. Laser Carding si fregia di avere all'interno un pool, un team di designer e di architetti che partecipano attivamente e con competenze tecniche allo sviluppo del progetto. In qualche modo Laser Carding si mette a disposizione della clientela per realizzare e successivamente produrre progetti, prodotti e produzioni. In dieci anni Lasernet si è fortemente sviluppata incrementando e modernizzando il proprio parco macchine e avvalendosi di uno staff di professionisti dinamici e competenti al servizio della clientela fino ad essere considerata una delle più importanti realtà italiane in questo campo. Grazie a tutti!